Oltre un mese fa crollava il ponte di Albiano, da allora la politica romana tante riunioni, tanti tavoli rotondi, però di fatto ancora non c'è un commissario, sembra che non ci sia una linea di azione chiara e questo non è più tollerabile. Sì, diciamo noi abbiamo come territori invece una linea di azione chiara, qua non è una questione di partito, di schieramento, c'è centrosinistra e centrodestra impegnata in questa battaglia per far fare subito le rampe sulla 12 e poi la bretella Ceparana-Santo Stefano sul modello del ponte Morandi con la nomina di un commissario. Oggi proprio grazie alla nascita di un comitato spontaneo per la viabilità ai due fiumi presentiamo questa petizione che invitiamo a firmare tutti i residenti, gli studenti, gli operatori delle attività economiche di questa parte di territorio della Liguria perché il crollo del ponte di Albiano è vero che ha creato una ferita nel territorio toscano e ci mancherebbe quindi anche il nostro impegno perché venga fatto quanto prima, però qua c'è il rischio veramente di 38 mila persone che rischiano l'isolamento. Già chi stamattina transitava sulla Rippa si è reso conto che l'insostenibilità della bretella ha un traffico così pesante e non solo perché è trafficato da autocarri e quant'altro, è inadatta a ricevere penso oltre 30 mila auto al giorno. Stamattina Coda arrivava nel centro abitato di Bottagna e questo voleva dire ingolfare anche chi deve accedere alla viabilità verso Spezia pertanto l'urgenza è questa, un intervento immediato come già tutti insieme con gli altri sindaci abbiamo chiesto alle forze politiche che governano la regione, che governano il governo centrale, l'intervento non può essere rinviato, le scelte vanno fatte credono che debbano essere le scelte migliori ma ci sono scelte che vanno fatte subito. Urgenza e velocità sono le cose su cui, i due punti su cui ci dobbiamo concentrare. Io non so come se ciò non sarà fatto, come il ministro potrà giustificare questo no. Stamane abbiamo riaperto praticamente tutto ma se non c'è la viabilità a sostenerci rischiamo di morire davvero. Il nostro territorio che sembrerebbe leggermente defilato rispetto alle problematiche territoriali della caduta del ponte in realtà ne risente molto e come noi anche circa metà di quello che è il territorio di Podenzana perché ricordiamo che il comune di Podenzana è diviso in due, metà a Vertia sulla Val di Vara e metà sulla Val di Magra quindi tutto questo territorio Podenzana e Calice ne risente in modo enorme. e già in questi giorni, col primo giorno di apertura oggi, si sono avute le prime problematiche che riguardano proprio tutti. È assolutamente indispensabile dare una risposta a queste domande quindi la realizzazione delle rampe per consentire un immediato e velocissimo accesso alle vie primarie del territorio.